Le imprese agricole agrigentine che hanno subito danni in occasione dei gravi eventi calamitosi dello scorso 5 ottobre devono raccordarsi con i rispettivi comuni per la successiva segnalazione all'Ispettorato Provinciale Agricoltura. È il messaggio che il deputato regionale del Partito Democratico, Michele Catanzaro, trasmette agli agricoltori dei Monti Sicani, dando seguito ad un preciso impegno assunto in occasione di un incontro tenuto a Cianciana. Presso la Commissione Attività Produttive dell'Ars, di cui è vicepresidente, Catanzaro oggi ha sentito in audizione i rappresentanti dei comuni agrigentini che hanno subito ingenti danni a causa del maltempo delle scorse settimane che ha aggravato una situazione già pesantemente limitata da un'arretratezza infrastrutturale che non aiuta allo sviluppo. Abbiamo chiesto al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza alla deroga alle assicurazioni, dice Catanzaro, come è avvenuto in altre occasioni. L'assessore Scilla ha di fatto avviato la ricognizione dei danni per quantificare successivi aiuti che arriveranno a seguito della dichiarazione dello stato di calamità. Nel corso dell'audizione il parlamentare regionale del PD ha chiesto all'assessore regionale all'agricoltura di recepire misure straordinarie nella nuova programmazione del PSR e predisporre l'invio dei mezzi meccanici per il ripristino della viabilità.